Atalanta non avevano esigenze di classifica ma volevano salutare gli allenatori bianchi e corso che lasciano le rispettive panchine con una buona prestazione l'Atalanta due gol tre pali tante occasioni e parsa più determinata il giovanile Lecce a sprazzi ha fatto vedere buoni numeri cogliendo due volte i legni della porta di Benevelli ecco il primo colpito da Rizzo dopo un bel triangolo con Luperto va in gol l'Atalanta alla mezz'ora con Pacione pronto a raccogliere la respinta sul tiro di Agostinelli Pacione manca il bis un minuto dopo cogliendo il palo sul passaggio di Mutti imbeccato da Magrini l'Atalanta preme costantemente e all'inizio della ripresa Magno Cavallo a impegnare De Luca con un colpo di testa poi Donadoni si scatena sulla destra e alla fine di un bella solo offre a Snidaro una palla da mettere in rete di testa Moro sbaglia il terzo gol da due passi in questa circostanza il pubblico impaziente scende in campo in attesa dell'invasione finale Rizzo intanto manda la palla sul palo e poco dopo è Moro di testa a spedire sul montante destro della porta Leccese Capone sul lancio di Luperto con un pallonetto manca una grossa occasione per accorciare le distanze ed infine Moro con una gran bordata spedisce la palla a pizzicare la traversa l'Atalanta vittoriosa per 2 a 0 domani dovrebbe ufficializzare l'assunzione dell'allenatore Sonetti Grazie a tutti